A febbraio Capo! È ora di andare a caccia! La pietra Un cavernicolo? Un cavernicolo! Incontra il bronzo Lascia in pace la mia tribù! Sei coraggioso, cavernicolo! Ma da dove vieni dall'età della pietra? Dal regista di Galline in fuga Non voglio attirare l'attenzione! I primitivi Dall'8 febbraio al cinema Dall'8 febbraio al cinema